La scrittura è nata negli anni 70 a New York, nel Bronx. L'hip opera chiude quattro discipline. Le quattro discipline sono il writing, il breaking, l'MC e il DJ. Questo è il writing, cioè nel graffito. C'è uno studio del lettering, quindi della calligrafia, della scrittura, delle lettere. Oppure c'è uno studio dei puppet, dei personaggi, quindi possono essere sfondi, può esserci sotto di tutto. Famosi o famigerati, i dipinti sui muri sono una realtà della vita cittadina. Ormai considerati arte a pieno titolo, il comune di Settimo ha deciso di concedere spazio a questa forma di espressione, che può abbellire angoli della città, altrimenti abbandonati e spogli. In libero style sono però confluiti tutti gli ingredienti dell'hip hop. Questo è breaking, uno degli elementi fondamentali della cultura hip hop. Chi ammazza Johnson 32. DJ scatenati che si lasciano andare anche a qualche contaminazione musicale, gli immancabili skateboard, videogiochi in rete e anche un nuovo tipo di calcio a due, il panna, la condensazione suprema del gioco del calcio. Anche il freestyle, l'improvvisazione ritmata all'MC, ovviamente non poteva mancare. Entro così, 100% c'è un flow e stiamo insieme perché la cosa più importante è essere qui, di... Questo rappresentiamo B-Boy, B-Girls nel posto, Torino!